Ciao ragazzi! Allora, inizio ho fatto questo, questo, ho editato questo inizio. Cosa pensate? Perché il mio canale è diventato vecchio e anche, ma non è male. Quindi ho rinnovato il canale Manuele Agostino, perché ho saputo solo 5 minuti come editare questo. Questo è molto bello. E anche ho rinnovato la mia pagina. Ho rinnovato sia Manuele Agostino, perché mi ha chiesto una mano, che il mio ieri. Quindi questa è la nuova copertina, dove potete vedere che ho fatto una specie di design. Potevo farlo, questo diciamo sarebbe asiatico. Poi ho messo il nome, in carattere cubitali, tasto iscriviti. Perché volevo fare una copertina al genere da tanto tempo e anche mettere tutti i contenuti del canale. Vedete? All the content of the channel. E poi abbiamo aperto un negozietto dove praticamente mettiamo i design. Vedete? Ho fatto qualche design qua. Poi sto vedendo se mi approvano anche il design di Bruce Lee. Perché Bruce Lee è spam. Very nice design. E poi metterle nel negozietto online. In questo caso si chiama Fix Mandel Dimple Shop. Come potete vedere ci sono magliette. Questa diciamo è di marca, però c'è la maniera per farle meno costose. Adesso vi faccio vedere. Praticamente entrate su Fix Mandel Dimple Shop. E invece di comprare le magliette che ci sono qua. Andate su Start Design Now. Cotto a Mais. Praticamente quando andate su Product. Dovete metterlo per price. Così vi mette la magliettina. La magliettina, la calza. Quelle meno costose. Perché per esempio una maglietta a 12 dollari va bene. Quindi prendete la maglietta che adesso è bianca. La scelgo. Select. E metto il design. Perché il design non lo scelgo qua. Io faccio vari design. Che poi voi potete mettere. Per esempio mi piace questo. Tac. Vi personalizzate. Perché nel mio negozietto praticamente posso mettere sino a 50 design. Poi se la gente comunque gli piace il mio lavoro. Perché a me piace anche fare designer. Vedete. Se la gente piace io posso fare anche design personalizzati. E se finisco tutti i design posso aprire un altro negozio. Perché mi piace. Cioè non è solo per i sugli. A me piace anche. Sono creativo comunque. Anche questa cupertina. Mi piace. Perché comunque è creativa. Io sono una persona che lavora sul creativo. Quindi grazie tante. Io ho detto che cosa possa costarare. La scelgo. Buonanza. La scelgo. E poi la scelgo. Poi in prodotti. Non lo compone. Se esigenza. Quindi hai la gara. La t-shirt. and then here you can choose the design I can do also customize custom design because I like this work it's not only for money but because I like creativity so thank you so much for watching